i bellissimi capelli azzurri roberta chiesi direttamente da bibiano bibiano da liceo scientifico lazaro spavanzano roberta il capelli non veo il capelli non veo veo adio il Grazie a tutti. Ecco le cose. Immagini private probabilmente, ma fino a lui. Arturo Bertoldi, I suppose. I'm not sure, but I think he's... Io non la riconosco, ma pazienza. La leggenda Arturo Bertoldi, non ero sicuro, come va? Gori, 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 gol. Gori, gol. Mi è venuto in mente questo oggi. Gori, gol. L'ex bomber del Tortona, del Dertone. Auditorium. Manca Susi, dove? Il dopo convegno. Adesso fermiamo anche perché le risate magari sono private.